Piera De Tassis, direttore artistico del Roma Cinema Festival, ha esordito dicendo che mai come quest'anno la rassegna è l'insegna della commissione e dello scambio effettivo tra sezioni. E se è vero che il Marco Aurelio all'attore va a Richard Gere, il percorso 2011 è l'insegna del lavoro dell'attrice con un tappeto più rosa che rosso, tante saranno le attrici a calpestarlo, da Michelle Yeoh, Adzang Ziyi, Olivia Newton-John, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling, Christine Scott Thomas, Penelope Cruz e tutto il fitto parterre di attrici italiane. Altro fil rouge di quest'edizione è la commedia contro la crisi perché risata e leggerezza sono la vera scommessa della selezione ufficiale del festival, per cui ecco Totò in 3D, restaurato per l'occasione, passando per la trasgressione sorridente di Isteria, alla guerra di classe e dei sessi del Montpire Cauchemar, da Hotel Lux di Haussmann alla Criptonite nella borsa di Troneo, al cuore grande delle ragazze di Avati, e per finire con En Quentocino, l'esilarante farsa niente affatto Ponton di A Few Best Men di Stephen Hilt, film che scatenano il divertimento senza rimorsi, ma senza rinunciare alla riflessione e al tratto di stile.